Mi fa molto piacere sentire questa bella notizia, ovviamente glielo ho comunicato, io ci mancherebbe. Comunque l'ho trovato meglio dell'ultima volta. Del quarto uomo cosa dice? Guardate, sarebbe il caso che cominciassimo a parlare in maniera più corretta dell'unico uomo. Allora, di Rudy, cosa dice? Che non l'ha mai conosciuto, neanche di vista. Per lui è stata una sorpresa totale perché non l'ha neanche mai visto per strada, insomma, in giro per Perugia. Riparte da qui l'indagine sulla morte di Meredith Kircher, per il quale restano in carcere Raffaele Sollecito e Amanda Knox, con la pesante accusa di concorso in omicidio e violenza sessuale. Riparte dalle cose che avrà da dire se deciderà di parlare Rudy Herman Guede, l'unica persona della quale sono state trovate tracce certe nel casolare di Via della Pergola, un frammento di impronta sporca di sangue lasciata sul cuscino della vittima ed altre tracce biologiche trovate nel bagno di servizio. Ma gli inquirenti cercano altri elementi e riscontri anche nel monolocale di Via del Canerino, una traversa di Corso Garibaldi dove il piccolo spacciatore ivoriano viveva in questi ultimi tempi. Oggi alle 14 sul mini appartamento sono arrivati la scientifica e gli esperti in rilevamento tracce sopra il luogo cui sono stati invitati anche legali e periti di parte. La vostra presenza qui? Tutti i difensori sono stati avvisati, tutti i difensori degli altri indagati. È un diritto assistere, quindi per questo siamo qui. Però non sappiamo quello che ne uscirà fuori. Sai i particolari dell'arresto di Rudy Herman? No, solo quello che abbiamo appreso da voi. È avvenuto in Germania, però non sappiamo null'altro. Per il 21enne africano, il cosiddetto quarto uomo, la difesa d'ufficio è stata assunta dall'avvocato Arnaldo Picuti. Nel monolocale, situato a pochi metri dall'abitazione di Raffaele Sollecito, è entrato anche il PM Giuliano Mignini, il magistrato titolare dell'inchiesta che coordina le indagini di squadra mobile e servizio criminalità organizzata della questura di Perugia. Oggi i CSA italiani hanno filmato il locale dove viveva Rudy Herman Guede, in cerca di impronte per recuperare altre tracce organiche. E qualcosa di interessante l'hanno trovato, l'impronta sporca di fango simile a quella rilevata accanto al cadavere di Meredith. Una traccia che gli investigatori si sono soffermati a lungo ad analizzare, spostandosi poi anche in un prato poco distante dall'abitazione, da dove si può raggiungere la strada che porta al casolare del delitto. Sugguede il sospetto che la sera del delitto sia stato lui a recarsi nella lavanderia di Corso Garibaldi, dove uno straniero è stato notato, lavare scarpe e indumenti, i nodi da sciogliere nell'inchiesta sembrano ancora molti, a cominciare dal muovente, dall'attribuzione delle responsabilità. Può dirsi chiuso il cerchio in questa indagine con il suo arrivo a Perugia? Questo lo dovete chiedere all'autorità giudiziaria. Noi stiamo continuando, come sempre, a raccogliere ogni elemento che possa essere utile, a delineare un quadro definitivo, perché è il nostro primo interesse dare delle risposte precise e fornire tutti gli elementi necessari per una serena valutazione di giudizio da parte del magistrato.